direzione x factor allora la diretta sta per iniziare la prima mancia eliminazione diretta votate per samuel e guarda l'entusiasmo dietro di me siamo pronti stiamo per andare in diretta ciao amici sono x factor mara reduce dal camerino insieme a gallagher come è andata di girare x factor sono col pa adesso finiamo di montare il video favorisca i sentimenti e guardate la figata della questa è la funzionalità cinema ora come zoom ma è incredibile ma una stedica immancabile il materassino per la palestra i suprimi visto che chiara accenderà l'albero di natale in piazza del duomo abbiamo deciso io il pa che allo stesso orario accenderemo il nostro albero di natale il cervo lo scoiattolo e basta non abbiamo niente da accendere quindi non perdetevi la nostra inaugurazione ecco la cena dei campioni tutto cucinato a mano da chiara la vera casalinga e ci spariamo gomorra questa è la serata dei campioni questo è il mio entusiasmo ingiustificato verso la vita dove è il campbellino vuoi vedere il campbellino la mistubishi come si chiama la macchina la mistubishi buongiorno sto autografando giusto un paio di dischi ho firmato anche giusto un paio di cartoline e voilà make it rain oggi avrò firmato boh tipo 5.000 dischi ricordatevi ragazzi che nel repack ci sono gli inviti per entrare al private party e poi non ci vediamo fino a giugno guardate che spettacolo comunque in tanti mi state chiedendo in cosa consiste questo private party stiamo cercando di organizzare una giornata insieme a voi praticamente vi ricordo che si può accedere questo private party solo acquistando la multiplatino my additions il singolo comunistico rolex disco di platino non so se state notando ma sto festeggiando un po meno tutti i dischi di platino d'oro perché da gennaio cambierà il metodo di conversione sarà un po più congruo all'andamento del mercato non non so se tecnicismi cose così vabbè non servono anelli che ci tengono assieme perché di anelli son fatte le catene seppur così presto non ne faccio altrimenti cuore in arresto favorisco i sentimenti toni e sghere bella a tutti ragazzi volevo dirvi che da oggi è disponibile lo stream to tattoo con i tatuaggi da sbloccare su spotify quindi streamate più che potete e potete venire con noi a tatuarvi rimetto lì qua sotto praticamente ho più sintomi io della gravidanza di lei io sto benissimo per fortuna che culo speriamo continui così cioè stai viaggiando più adesso che quando non eri incinta vergognati un crombino